Miei carissimi milanesi, ben ritrovati. Allora, c'è chi nella sua vita sente il bisogno di aiutare gli altri. E si può fare in tante maniere, perché puoi fare ad esempio una professione che ti porta ad aiutare gli altri, tipo il medico. Oppure puoi scegliere che nel tuo tempo libero aiuti gli altri tramite il volontariato, ad esempio. Ecco, poi c'è chi, come la nostra ospite questa sera, decide di fare entrambe le cose e soprattutto le fa anche bene. Sigla! Miei carissimi milanesi, diamo il benvenuto a Maria Cristina Campanini, conosciuta da tutti come quella di Aiutility. Quella di Aiutility, certo. E tutti i volontari di Aiutility sono quelli della DOC. Quelli della DOC, perché appunto. Allora, Maria Cristina Campanini, ben trovata, benvenuta. La DOC, perché tu sei una dottoressa, sei la dottoressa, no, anzi c'è la dottoressa della mutua. No, c'è ancora. C'è ancora, siamo tutti di base adesso. Adesso sì, siamo difficilmente inquadrabili, perché è medico di famiglia, medico di base, medico di medicina generale. Famiglia, io ormai sono alla terza generazione, avendo una certa, sono alla terza generazione di assistiti, quindi ormai conosco gli alberi genealogici di tutta la zona vigentina. Poi, essendo sempre stata più o meno nella stessa zona, veramente ho una conoscenza rionale e una famosa fama rionale. Bene, la tua fama ormai è, a dir poco, metropolitana se non oltre. Poi andremo a capire meglio. Però, Maria Cristina, oggi qui non parliamo solo delle tue gesta da idiatrice, anima di aiutti di te, ma un po' vogliamo conoscere anche Maria Cristina Campanini. Prima di tutto, Maria Cristina Campanini, da tutti chiamata Cristina. Certo. Quel Maria lo abbiamo tolto di mezzo. E' troppo lungo, è troppo lungo perché, come diceva Troisi, Massimiliano, Ugo. Però, potevi scegliere tra Maria e Cristina e Santo Cristina. Cristina, sì, assolutamente. Ok, non sei l'unica, ti dico che in questa redazione c'è qualcuno che ha fatto la stessa identica scelta. Sì, è più agile, è più rapido. Abbiamo una social media che ha fatto la stessa identica scelta. Tu sei milanese, dove nasci? Io sono milanese, sì, sì, milanese. C'è un rametto però emiliano. mio nonno ha l'eratperma. Si vede tutto, lo sai, quel piccolo rametto. Sì, manca l'erre che piacerebbe perché è molto carina, molto tenera. Però, sì, c'è un ramo emiliano. Cresciuta da che parte, da Milano? Cresciuta a Città Studi, mitica scuola Leonardo da Vinci. Figlia unica, penso poco viziata, molto poco viziata. Perché nella nostra generazione era quella del, ma te lo meriti? Hai preso nove, potevi prendere dieci. Siamo cresciuti con sto carico, cosa ti devo dire? Carico che però ti sei portato avanti, chissà quanti dieci hai portato a casa. No, è brava ma si distrae. È intelligente ma si distrae. Un po' di fantasia, un po' di casa si distrae. Mi distraevo molto. Insomma, fantasia, medice, fantasia... Non mi avevi detto che mi avresti chiesto queste cose, non mi avevi detto niente. Perché se te lo dicevo non venivi. Eh no, cioè... Quindi per quello ti conosco. Spesso che ti ricordi dove sei nata e dove sei cresciuta. Sì, però insomma avrei detto delle cose più decorose. No, 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 non voglio quelle interviste. Da farmi la figura. Non voglio quelle interviste dove chiedi al cantante sui suoi albori e ogni volta gli dà la stessa identica risposta. Cioè, proprio matematica. Però stavo pensando, cioè tu hai detto creatività, una ragazza creativa e sei sempre stata così creativa come sei anche adesso? Fin dalla giovane età? Ma creativa... Fantasiosa? Fantasiosa. A me piaceva l'idea di fare le cose tutte insieme. Più che farle da sole, da sola, tutti insieme. Non la cantante ma il coro. Non il gioco singolo ma insieme. Questo forse, non so, per essere stata figlia unica avrei tanto voluto avere dei fratelli. Amavo vedere quelle famiglie numerose. Ci sono dei figli unici che avrebbero voluto dei fratelli. Sì. Ma perché sono figlio unico e sto benissimo così. Sono egocentrico come sono ovviamente. Da piccoli è bello l'idea di avere tanti fratelli, sorelle, dormire insieme, fare le cose tutte insieme. Io avevo tanti amici e mi bastavano quelli. No, 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 non volevo... Fratelli o sorelle. La squadra, la gente, il gruppo è stato fondamentale sempre per te, da quanto ho capito. Tanto è che, quindi adesso facciamo un salto in avanti nel tempo e arriviamo al tempo del Covid, crei un piccolo gruppetto da cui poi scatturisce di tutto e di più. Come è nata l'idea di iUtility? Allora, iUtility è nata perché ci siamo trovati a essere chiusi ognuno nella propria bolla e questo è stato un shock perché da una parte c'era un mondo che tendeva, che tende ancora adesso a globalizzare i social, si comunica qualsiasi cosa, cosa ho mangiato, cosa ho bevuto, dove sono andato. Prima ancora di iniziare a fare una cosa la devi pubblicare. Quindi in questo mondo che è così tutto condiviso, c'è stata la mannaia della non condivisione, della solitudine, dell'essere da soli che ha obbligato in pratica tutti noi a fare i conti con la propria fragilità, con la propria solitudine. Io vivo poi in una zona, lavoro in una zona dove ci sono tantissimi anziani e dire a questi anziani per andare al supermercato scarichi l'app sul tuo iPhone, scarichi la tua app in modo da vedere lo slot la slitta, lo slot, lo slot, scusa l'è il slot? No, 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 mi vuol pam. Allora, quindi, siccome ci sono tanti anziani, tante persone sole, è una zona molto longeva la zona di Porta Romale, la vigentina, non so perché ci sarà, malgrado l'inquinamento ci sarà un'aria buona. Un buon aria da quelle parti. Sì, e allora abbiamo detto in un gruppetto di chat di 4 o 5 persone, ma senti... 4 o 5 persone, tenete questo numero in mente? Sì, 4 o 5 persone. Poi io ho tanti iscritti con me, ho tanti insegnanti dell'American School, dell'International School of Milan, perché, parlando, biascicando un po' di inglese, loro vengono, stanno poco tempo, non fanno in tempo di imparare l'italiano e quindi li appoggiano quasi tutti. Ce ne sono tantissimi che abitano in zona Corso Lodi. Ne ho tanti, dicevo, ma questi poveri, non conoscono nessuno, come facciamo? E allora abbiamo detto, ma senti, aiutiamoli con la spesa. Però c'era il problema che non si poteva neanche andare in giro, perché adesso noi ci l'abbiamo rimosso, ma il primo Covid è stata... C'erano le strade deserte. C'era il terrore, poi c'era uscire, non sapevi cosa c'era fuori dallo zerbino di casa tua. E poi nessuno ti diceva, perché all'inizio, ma no, una piccola cosa, è come un'influenza. Poi c'era quel bollettino che era veramente un rito funebre delle ore 18, dove ti comunicavano il numero dei morti, il numero dei nuovi casi. Era un'angoscia infinita. Quindi tutte queste persone dicevano, ma come fanno? Ma come fanno? Sono qui da sole, non possono tornare indietro perché gli aerei non le possono prendere. come facciamo ad aiutare questa gente qua? Tutti gli anziani, la gente che... Come fai? Però anche noi avevamo i nostri problemi, perché come fai? Giri in macchina? No. Gli unici che potevano girare in macchina erano i medici, poi mostrando il cartello. Se giravo come medico, piena di spesa, diventavo poco credibile. Insomma, allora, cerca, che ti ricerca, che ti ricerca, abbiamo incontrato Cecilia Strada, che mi ha detto, ma noi abbiamo delle logistiche di persone fornite dal comune con Milano Aiuta 020202 e potremmo portare loro la spesa. Mancherebbe la spesa. Eccoci. La spesa la facciamo noi. Guarda, tempo. Ma io dico dieci minuti. Ho mandato un messaggio a un po' di persone, un po' di pazienti, amici. Per favore. Perché il per favore è proprio... Non è che mi portate un po' di cibo o me lo fate mandare o lo fate arrivare qui con i soliti mezzi. Insomma, lo spedite. Si è riempito lo studio. Ecco, quello studio che ancora oggi è pieno. Sì. Di altre cose. Non più spese solo, ma anche altre cose. Più due box. Più due box. Perché, come dire, quando le cose sono belle poi uno ci prende la mano, no? Il bene è di fondo. Non fa rumore, ma diffonde. Poi abbiamo pensato anche sono tutti chiusi i ristoranti. Ma non è solo l'essere chiuso. È il sentirsi sminuito in un lavoro. Cartolerie, panetterie. Avevano degli esuberi. Non potevano non fare. Ma il fare avanzava. Allora abbiamo detto beh, facciamo una cosa. Noi facciamo lavorare queste persone. Magari a un prezzo un po' calmierato. E poi, così, loro lavorano. Si sentono utili. Perché stare anche lì tutto il giorno era frustrantissimo. Allora, li facciamo lavorare. Quello che lavorano con i prezzi calmierati lo pubblichiamo in modo che anche si sappia che stanno facendo una buona cosa. E poi lo rimettiamo sul mercato. Così c'è questo cerchio. Sempre questo lavoro un po' di gruppo. Ed era un aiuto ma era anche un'utilità. E da lì è venuto fuori i utility. Che non è per fare gli spirituosi. Cioè adesso fanno la roba in inglese perché sono... No. No, perché è venuto fuori così. Perché i utilità sembrava un po' serendipiti. Non faceva bello. E da questa... Quindi avete unito all'utilità con l'aiuto. Nasce i utility che ad oggi appunto ha aiutato tantissimo. appunto durante l'emergenza Covid. Poi, come dire, la fortuna ci vede bene ma la sfiga ancora meglio. Sono arrivate le guerre, no? Quindi insomma anche lì. Sì. E in primis quando è scoppiata la crisi in Ucraina voi tempo zero anche lì siete intervenuti. Guarda, la cosa più commovente è sempre che è una cosa che veramente mi prende il cuore ogni volta è il vedere come le persone si identifichino in chi ha bisogno. Ti faccio un esempio. Ci chiedevano dall'Ucraina addirittura le candele perché nei rifugi non c'era quindi le torce il power bank le ricariche insomma il cibo di tutto di tutto. Abbiamo mandato camion su camion abbiamo anche poi partecipato a un programma perché poi sempre per la questione del coro c'è una rete di circa 130 persone in tutta Milano che collabora si scambia è una rete vorticosa a maglie sempre più larghe ma sempre più fitte e quindi all'inizio ci portavano le candele anche per illuminare ma portarle gialle e blu come la bandiera ucraina questa è una roba questa è una delicatezza potrebbero prendere le bianche qualsiasi colore no la delicatezza di scegliere il colore oppure la scelta di prendere una cosa che so che nei paesi dell'est questa la mangiano quindi secondo me a loro piace ecco questa è devastante puoi essere stanco puoi essere massacrato di fatica poi ti arrivano queste cose qui e ti si apre il cuore ecco una cosa che di Cristina Campanini è interessante come appunto tu hai tutti i giorni a che fare con situazioni complicate difficili insomma l'Ucraina insomma tiravano storie foto racconti a Milano aiutate tantissime persone in difficoltà che sono reali perché poi è questo il problema un conto è adesso non me ne vogliono le grandissime organizzazioni che servono e che fanno tantissimo ma insomma se tu aiuti le grandi organizzazioni sei un po' distaccato riesci a staccarti da lì non sai nome e cognome non li sai non sai neanche le facce poi per fortuna fanno loro c'è gli operatori che fanno tu li conosci gli vai a portare a mano il golfino in più che serve o non serve perché sta arrivando l'inverno freddo sì sì nonostante questo il sorriso non lo perdi mai è una paralisi ops ops ho fatto una gaff no no ma no insomma un po' di entusiasmo cioè niente che sbagliato dirlo sembra che nulla ti scalfissi quando invece non è così no ciao cioè so benissimo che non è così no ma parto di quei fotoni che atomici il fotone ma no ma no beh insomma intanto il mio lavoro già mi pone in contatto con il pubblico l'eremita non fa il medico di famiglia no questo proprio nella maniera più categorica perché adesso forse è un po' sminuito no è molto svilito il nostro quante mail mandi al giorno quanti fogli penso più allora la media di ricezione è sulle 100 150 però poi c'è la risposta infatti scusa però diciamo parliamo del tuo sorriso che non ti abbandona mai ma insomma ci vuole un po' di un po' di empatia poi ci sono tante cose commoventi perché all'interno anche dei pazienti io ne ho 2000 2000 parliamone all'interno dei pazienti ci sono alcuni che chiedono e quindi so che hanno bisogno o ai quali viene offerta ma bisogna mica di qualcosa un supportino le bambine che c'è magari un regalino una merendina e poi ci sono i pazienti che invece possono e che portano e che portano proprio con l'identificazione perché un conto è dare i soldi e un conto è portare da mangiare è diverso intanto porti di più perché cosa va quanto dai coi soldi 5 euro è tantissimo ma se tu vai al supermercato e prendi e cominci a dire ah c'è un 3x2 aspetta allora il 3 quasi quasi glielo porto a lei ma si va dai non sembra ma poco 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 poi abbiamo raccolto non so quanti ma tantissimi abbiamo fatto un sacco di spese con i punti della carta fidati si si ho visto ieri giravano un appello in questi giorni appunto se avete i punti per la serie tutto quanto fa spettacolo tutto quello che si può raccogliere noi raccogliamo non buttiamo niente aiutillitiamo tutto i buoni scuola siamo a oltre un migliaio che ho capito non saranno tantissimi ma sono sempre 2000 euro di cancelleria che non è poco che non è poco nelle scuole dove la gente deve portarsi la cartigenica da casa esatto più tutto quello che riusciamo a donare gli oratori la zona il municipio l'altra cosa divertente proprio di come agisci in queste operazioni è che ad esempio con l'Ucraina voi avete mandato non so quanti generatori elettrici ormai e sei diventata praticamente un ingegnere elettrotecnico ormai quasi ah so tutto sei tutto vero guarda non mi fregano più adesso eh ma kilowatt quanti reali perché c'è scritto una cosa ma poi è un'altra guarda mi sono fatta una cultura sapevo neanche cosa fosse in realtà continuo a non sapere però mi sono un po' più scaffata perché all'inizio si trovavano si trovavano più perché ovviamente però ecco anche lì poi ti arrivano i video dei bambini dell'asilo che sono con la luce al caldo che ti ringraziano e fanno ciao ciao con la manina ma come fai a non mandare ma come fai come fai a girarti dall'altra parte non è possibile finché parliamo appunto del golfino del panino del 5 euro un conto qui parliamo di cose che sono costate veramente tanto tutte grazie la vostra rete fatta di tante piccole persone oltretutto cioè non è che avete avuto il grande donatore che è arrivato e ha detto vi compro 30 no 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 sono le singole persone perché se tu spieghi quello che fai e si vede quello che fai soprattutto non è tanto pubblicare sui social io non avevo neanche l'iscrizione a facebook perché mi sembrava un fardello in più da seguire infatti è un fardello non sono neanche io quella che pubblica su instagram perché sinceramente non sono proprio molto capace però c'è una bravissima ragazza che con una pazienza infinita offelefa somestè offelefa somestè lasciamo a chi è capace ecco sono ciofani sono ciofani adesso devo farmi spiegare come si fanno i reels con la musica perché mi piace molto o i tiktok perché sono ancora un po' indietro però quando ti arrivano poi quando chiedi una cosa e arriva fai vedere la consegna perché poi è tutto velocissimo e ci sono anche le piccole magie per esempio ieri è arrivata una bambina un ricongiungimento familiare dopo sei anni una bambina di nove anni straniera dopo sei anni che non vedeva la mamma non sa ovviamente non sa leggere non sa scrivere non parla neanche l'italiano e doveva esserci un regalo in più per Natale per lei ma senza la letterina perché raccogliamo anche le letterine di Babbo Natale e andiamo vestiti un po' a dare una mano a Babbo Natale a dare una mano a Babbo Natale vestiti da albero da stella da elfi abbiamo un Babbo Natale ufficiale che è quello vero diffidate dall'imitazione per favore il nostro è quello vero quello degli utility è quello originale certo anche la barba vera che se la fa crescere da settembre vorrei vederti vestita da albero questa cosa con le luci da albero non vedo l'ora di vedere la foto di te vestita da albero no io mi vesto da stella con un materiale altamente infiammabile per cui sto lontano da tutte le fiamme se uno fuma da lontano un chilometro perché se no prendo fondo di una torcia umana però ecco appunto la magia è stata che ho detto qualcuno vuole fare un regalo extra anche se non c'è la letterina a questa bambina dopo 30 secondi era ma qui in portineria ci sono una bambola una 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 Barbie un'altra ma mi sembra che questa è la magia ecco il segreto mi sembra quello di saper chiedere cioè se si è bravi a saper chiedere come dicevi tu col per favore forse si riesce io non so se sono capace di chiedere però sicuramente è il metterci la faccia io ci ho messo la faccia da 40 anni facendo il medico e spero di essere brava no ma almeno affidabile quindi è la stessa spero per i 2000 che sono iscritti a te anche brava speriamo confido anche nella provvidenza però ma no insomma una volta che tu insomma ci metti la faccia vedi che la roba è nel tuo studio e che ormai hanno mini mini suc insomma però abbiamo anche dei box ne abbiamo separati uno per il cibo e in prestito e un altro per le altre cose e poi c'è la rete c'è una grande rete tu sei il medico di base dal 1992 no no ok dal 92 ne hai viste quindi persone passare tantissime hai visto tante Milano passare a questo punto tantissime quante Milano hai visto e quali Milano hai visto questa domanda però è veramente cattiva con la capa eh sì la faccio a tutti e tutti mi rispondono così pensa allora io ho iniziato a fare il medico di famiglia quando non c'erano neanche si faceva tutto a mano ecco non c'erano gli appuntamenti non c'era una segretaria non andava di moda non era neanche prevista quindi avevamo la segreteria telefonica che andava a cambiare il sabato e la domenica con la cassetta parliamone e quando sono arrivati i primi programmi o internet o il telefono quindi l'aggiornamento che aveva le due castelline con la frecciolina che faceva l'aggiornamento lo facevi di note perché era più libera la linea sennò cadeva sperando che non cadesse la linea perché sennò era un disastro è bastuto a capo ti dico solo una cosa che nel mio studio si sono fidanzati due anziani mentre aspettavano adesso l'appuntamento sarebbe difficile non ci saranno più perché si sono fidanzati perché aspetta io aspetta poi si aspettavano ma lei adesso dove va vuoi fare la spesa ma veniamo a me ma sì era veramente un ritrovo e poi sapevano tutto di tutto sapevano già la cartella clinica l'uno dell'altro quindi non avevano problemi da quel punto di vista e sì se mi dà la stessa roba che ha dato a lei perché a lei ha fatto d'un bene guardi ha fatto d'un ecco questo era l'allora che era un mondo più poi io ho sempre lavorato adesso no però in case di ringhiera quindi veramente c'erano le persiane aperte alla sera passava la custodia a chiudere allora Maria tutto bene vabbè se una persiana rimaneva chiusa alla mattina ci si preoccupava cioè la mia vicina la mitica signora Maria alle otto di sera veniva a sistemare i giornali se c'era ancora qualcuno lo sgridava vergogna è stanca deve andare a casa mi portava il caffè a un certo punto al pomeriggio un momento arrivava lei con il caffè e la tazzina era un mondo così adesso è un po' più snaturato è un po' più tanto è molto più veloce c'è una richiesta che è spaventosa poi ci sono le mail poi c'è il whatsapp poi c'è io ho dovuto mettere un messaggio sulla mail dicendo almeno di notte di non scrivere c'è una richiesta si è l'idea di essere sempre connessi o la dottoressa è sempre disponibile qui a quel punto nella mia testa c'è una richiesta in tempo reale quindi se non arriva subito ecco però io credo che sia stata generata quest'ansia del tutto subito un po' quando eravamo piccoli noi adesso io ho più anni di te mia mamma chiamava il medico al terzo giorno di febbre a 40 dopo aver dato tutte le purghe dell'universo cioè i rimedi le polentine d'austione polentine non so se polentine ho ancora i segni delle polentine ecco se proprio 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 si chiamava il medico che arrivava come un oracolo accolto come veramente un oracolo adesso no dopo mezz'ora ci deve essere già la risposta questo rende difficile molto dall'altra parte la rende difficile anche perché siete sempre di meno cioè ormai siete come il panda del WWF sì perché fanno i test per medicina ma manca la domanda l'unica domanda che dovrebbero fare che ho sempre detto per i test di medicina è ma quanta pazienza hai perché ci vuole pazienza vabbè una base di conoscenza come dice la mia amica sapere non tutto ma di tutto e poi pazienza credo che la cosa più che forse pazienza è un termine un po' che sembra pazienza perché sei noioso no pazienza vuol dire anche rispetto vuol dire anche empatia vuol dire anche mettersi nei panni di questo è poco moderno come tipo di sentimento mi dici che questo è il problema per quello che i giovani non vogliono fare i medici di base ma no è anche un problema di stipendi di contratti di ah perché sfatiamo il mito che i medici di base sono tutti ricchi ma va cioè a parte la vera Cristina Campanini gli altri non lo sono giusto questo ce lo regoliamo che simpatici che sono qui ma no ci sono un sacco di fardelli di zavorre burocratiche che rendono veramente pesante non ti dico quanti portali lascia stare il covid che è stata un'esperienza quasi che aveva del mistico ma tanti portali tutti questi portali tutte ste cose da compilare da fare delle volte non capisci se tu sei un impiegato al pc o sei lì a fare il medico perché intanto che hai davanti il paziente ci sono almeno 750 passaggi che devi fare per aprire la cartella autorizzare la firma la cosa pesante è pesante no in più veramente viene svilito il vostro lavoro a questo punto perché poi la gente diciamo la gente si incattivisce la gente si si arrabbia si si dà la colpa a voi e beh perché siamo siete i primi i primi siamo gli ultimi della catena ma siamo i primi in fronte a te e poi soprattutto noi ci beccano sempre perché almeno in ospedale oggi il dottore non c'è oggi è in sala operatoria noi siamo lì non puoi che io tirano uno scabuzzino e dire non ci sono non ci sono non funziona la dottoressa non c'è la signora non c'è non può a me viene da ridere penso che sia anche lì credibile perché mi viene da ridere che dice a me lavorando è solo due ore al giorno ma io sono lì a parte stamattina che c'è una mia collega però che mi sostituisce il studio e poi mi sfiosso finito qui subito c'è una svangata di mail e ti sto distruggendo anche lo studio nel frattempo a parte quello c'è una io sono sempre lì ma non so 12 ore il medico di famiglia l'associazione deve coprire le 12 ore io metto gli orari ma sono gli orari di ricevimento ma poi la gente arriva comunque non so io sono sempre lì non so chi gli dice che fa 3 ore io vorrei vederla che mi spiegasse ma proprio come quella storia che i maestri e le maestre fanno 3 mesi di vacanze sono quelle cose lì che oh sì se le guardi sulla carta è così poi in realtà quando poi si va a vedere veramente cosa fate il problema poi c'è anche chi non fa questo possiamo dire certo però e ci rimettete voi che magari fate questo è il grosso problema a tuo punto diciamo sei medico dagli anni l'altro ieri sì so che ci tieni a non far sapere bene i miei 62 anni portati egregiamente non si vedono e non si sentono diciamo che a chi ci ascolta via podcast insomma questa voce giovanile che riempie le vostre ma anche se potete guardare la professione video vedrete che invece si accosta benissimo all'immagine giovane della nostra dottoressa Campanini questa va a pari con la domanda di prima dovevo dovevo qualche maniera fammi scusare la nostra redazione la bravissima Irene Scimone ha trovato una intervista del 2009 quindi vedi che è un vizio pre-covid pre-tutto molto prima di aiutiti così in cui in realtà avevi osservato possiamo dire così un fenomeno molto particolare adesso non so se l'hai visto ti ho fatto vedere questo articolo qua lo riconosci? Sì di giune per ubriacarsi sono stata io arriva l'anoressia da happy hour così intitolava appunto il Corriere della Sera nella sezione nutrizione del 5 giugno 2009 cosa cosa si era successo e hai ancora notizie riguardo? purtroppo sì perché nell'andare avanti con la mia lavoro faccio anche la gastrointerazione a parte del medico di famiglia c'è stata la possibilità di partecipare a un progetto bellissimo del Ministero della Salute riguardante la nutrizione negli adolescenti i dati erano assolutamente sconvolgenti e cioè ci sono circa 3.000 siti riguardanti che danno informazione su come diventare anoressici ci sono tutorial per diventare anoressici si deve mangiare solo cibi di un determinato colore o cibi che stanno sul palmo di una mano e questo già mi aveva colpito tantissimo c'erano state delle riunioni degli incontri in cui sconvolgenti in cui ho sentito delle cose terribili tutte le immagini che magari noi non vediamo ma la nostra retina periferica recepisce comunque sono vedi i manichini i manichini sono di taglie impensabili non reali hanno dovuto addirittura fare delle leggi per non far sfilare delle modelle eccessivamente magre come modello di riferimento allora è ovvio che a persone che ormai sono strutturate questa cosa non fa impressione in maniera particolare ma persone giovani che magari hanno difficoltà che magari hanno conflitti in famiglia che magari hanno conflitti con se stessi insomma la fragilità di questi adolescenti che sono molto più soli rispetto a quello che eravamo noi che giocavamo in cortile o davanti alla scuola ha fatto sì che il fenomeno delle varie patologie della nutrizione diventasse sempre 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 più importante tra queste ci sono varie tipologie adesso prima era un fenomeno esclusivamente femminile adesso lo è anche maschile c'è la manoressia c'è l'ortoressia quindi quello del mangiare solo cose assolutamente biologiche non posso mangiare nulla che non sia certificato c'è la braidoressia eh no devo dimagrire perché mi devo sposare devo mettere il vestito oppure devo andare la braidoressia tutte le spose saranno che eh no continuano a stringere continuano a stringere sto vestito perché devo essere magra perfetta matrimonio si vede la sposa tra questi c'è un fenomeno che è oltre che grave ha una doppia valenza di pericolosità che è la drancoressia e cioè sto digiuno per tutta la giornata vado avanti a caffè sigarette quelle fetide bibite energetiche energizzanti dell'equivalente di 10 caffè e poi mi scateno negli happy hour serali ma per capire che effetto lo capisco ebbè mi scateno per avere più effetto ancora dell'alcol sono slatentizzata quindi non non accumulo calorie con l'alcol perché se mangiassi normalmente e poi facessi le happy hour con gli sciottini piuttosto che l'alcol caspita salirei tanto di calorie potrei rischiare di ingrassare ma se io sto tutto il giorno digiuno tutto il giorno lavorativo quindi vado a scuola faccio le cose devo essere presente con la testa digiuno magari sigarette magari caffè acqua e basta poi vado all'happy hour e mi scateno con gli sciottini e perdo conoscenza perdo conoscenza o perdo il mio controllo sono più libera libera di socializzare libera di uscire dalle mie paure dalle mie angosce il a me ha fatto impressione leggere dati di pronto soccorso per pediatrici dove portano e arrivano dei casi di coma etilico di ragazzini di 12-13 anni 12-13 anni io penso ai miei 12-13 anni ero imbarazzante avevo ancora i sandalini di gusella e le calzine quelle con i buchi che ti lasciavano il segno dell'elastico è un mondo è un mondo rischioso che cos'è la modernità è la velocità è che è che ci siamo dimenticati invece di loro parlo dei giovani sai chi lo sa intanto è un mondo sempre connesso è un mondo dove tu devi devi dimostrare che sei che vali che fai che ecco quindi e lo devi dimostrare proprio anche sui social poi è un mondo perché io valgo è molto più vecchia però se ci pensi non ricordiamo di chi ma insomma eh sì però adesso sono quasi tutte le famiglie necessariamente devono avere entrambi i genitori che lavorano in più si fanno tante cose cioè questi ragazzi fanno magari il sport la danza le cose noi avevamo il catechismo sì e no e ma e forse la ginnastica ma forse si faceva anche a scuola poche cose cioè era una vita la nostra molto più semplice ma come sono anziana sono sono antica io ormai sai quelle quelle che te l'ho detto io che ne vanta se stava meglio se sei ai miei tempi perché appunto la domanda è questa allora la domanda è si stava meglio come si stava peggio ma chi lo sa ma chi lo sa era un mondo più facile più fruibile non sapevi che cosa fare chiamavi una vicina di casa e andavi giocare visto che sei una ragazza intelligente però dottoressa Campanini era più facile o semplicemente lo capivamo meglio noi c'era meno da capire ok c'era meno da capire e quello che c'era era lì le condizioni di 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 c'erano dei no intanto che erano molto definiti non si fa perché no non c'era una spiegazione vai via perché queste sono cose che dobbiamo parlare da adulti non era molto democratico non era democratico però c'erano dei paletti forse più definiti più decisi questo si può fare questo non si può fare adesso c'è un mondo che ti offre la possibilità di potenziale di poter fare tutto ma anche delle richieste da parte che ti richiede un'energia una forza che è difficile da mettere in campo è difficilissimo in più magari sai la mamma lavora il papà lavora arrivano a casa che sono sfiniti ma sono sfiniti c'è da credere anche tu sei sfinito perché hai i compiti la scuola la danza le cose la scherma il nuoto io ho visto dei frigoriferi di famiglie dove ci sono i planning settimanali di tutta la famiglia che sono delle robe che neanche alla pocter and gamble tu pensa che in America c'è un adesso andava un po' di tempo fa una specie di biberon che con una lunga cannuccia con delle bevande energetiche insomma il sostitutivo di un pasto che tu puoi piazzare la cannuccia è bella lunga tu la piazzi lato computer in modo che puoi continuare a chattare scrivere lavorare quindi la riunione conviviale di bene ci troviamo tutti davanti a tavola e adesso parliamo come è andata a scuola cosa hai fatto allora a Natale cosa facciamo avete fatto avete scritto avete messo avete qui e tu come stai oh è successo questa cosa della riunione ci si parla insieme oppure ma sì parliamone poi stasera insieme davanti a un piatto c'è più perché chatto bevo terribile chiarissimo terribile torniamo invece prima di chiudere le ultime domande torniamo a Milano invece tu sei la nostra carissima milanese di questa sera di questa puntata qual è il futuro di questa città secondo te Milano sarà Milano sarà ma cioè io posso dire che cosa sarà Milano come vuoi tu o quello che vorresti che diventi ma me non l'ha mai chiesto nessuno che botta di autostima pazzesca Milano sarà quello che è sempre stata una città che ha luci e ombre tantissima capacità di accogliere è una città che ha tanta bontà Milano ha il cuore in mano magari non sappiamo bene dov'è il nostro cuore ecco ci vuole qualche catalizzatore che te lo fa che ti fa ricordare ma Milano ha il cuore in mano poi Milano è il caos è il lavoro è il la confusione ma la trovo comunque una città sempre dalle grandi potenzialità io ho avuto questo riscontro di una generosità che non mi aspettavo che ti scalda il cuore la capacità di identificarsi nell'altro di non voltarsi di buttare il cuore sempre in avanti di dire ma c'è bisogno di qualche cosa oppure il messaggino serve spesa e questa questa è questa è Milano secondo me mi stai dicendo quindi che un po' quella narrazione classica della Milano che devi per forza correre fare fatturare così in realtà sia solo un racconto no c'è sicuramente c'è anche quella però l'idea è sempre quella di allora se tu tanto quando fai qualcosa hai contro quelli che fanno la stessa cosa quelli che non fanno niente e quelli che fanno l'opposto il sindaco Sala una volta disse come fai 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 sbagliato ma concordo perfettamente devo dire che su quello si può dire qualcosa ma aveva ragione non fosse che per avere l'opportunità e il diritto di lamentarti prova a cambiare qualcosa allora il nostro cambiamento è stato minimo ma è una goccia nell'oceano è una goccia nel mare delle grandissime associazioni che fanno diciamo che più di una goccia dai la bella doccia l'avete fatta diciamo a noi piace cercare di dire che facciamo ben efficienza quindi è un collaborare allora cerchiamo di cambiare qualcosa se non ci piace proviamoci per lo meno per dire guarda non mi piaceva come era io ho dato la mia parte ecco noi cerchiamo di fare la nostra parte sui giornali poco si leggono queste notizie cioè questa parte di Milano che mi racconti tu si racconta poco la raccontiamo noi perché ti trasciniamo qui in studio la raccontano pochi altri si racconta invece sempre le solite cose la sicurezza io vorrei fare il corriere il corriere delle buone notizie esiste non puoi dirlo perché esiste no l'ho visto su facebook ogni tanto ci sono però ci vorrebbe veramente un canale dedicato alle cose belle che succedono però non fare notizie sembrerebbe perché se io adesso questa puntata farà miliardi dei miliardi di ascolti ma se portassi qui qualcuno che mi racconta che ha ammazzato qualcun altro fa sicuramente più ascolti perché? non so forse esorcizza la nostra parte il nostro lato scuro il fatto di sapere ma perché perché fa notizia perché la coronaca nera ancora dici? sempre sarà sì è il lato scuro di ognuno di noi qual è il lato scuro di Cristina Campanini? dai cosa di brutto su di te ci sarà la roba brutta su di te? ma non è vero chiunque parlo mi raccontano bene di te non è vero guarda non li minacci ed ecco un lato brutto dai tu vai in casa mia ti fanno un elenco per consultazione ALMZ due tomiche così li consulti ma se ho conosciuto posso dirlo posso dirlo perché ho conosciuto tuo marito giusto? sì c'è gli occhi a cuore ogni volta che ti guardano dai ma no ma io sono una diciamocelo una tritapalle un'ansiosa nevrotica l'ansia ho post it dappertutto poi mi dimentico le cose ma no ma no un brutto vedere un brutto vedere un nervosone ti sei stupita quando ti ho chiesto il futuro di Milano e ho detto mai nessuno me l'ha chiesto ma guarda io ad altri ospiti ho fatto le domande raffiche sui grandi temi della città te li faccio anche a te allora così ti stupisco va bene puoi rispondere a quello che vuoi perché mandiamo a quel paese non è un problema non c'entrano niente con quello che fai quindi sto chiedendo a Cristina Campanini sto sudando abitante cittadina del municipio abito nel municipio 1 ma lavoro a 4 nel municipio 5 nel municipio 5 ok va bene è bellissimo un municipio attivissimo allora questione iniziamo da uno che magari non mi manco te ne frega niente stadio di San Siro puoi dire non mi frega niente no lo stadio di San Siro so che ci sono delle non riesco a occuparmi tanto di calcio però se non vorrei creare dei problemi ma no puoi dire la tua puoi dire non mi frega niente non mi frega niente ma no facciano quello che vogliono io non sono andata tante volte a San Siro neanche i concerti no chi è il consigliere comunale infatti dai i biglietti gradi ce li hanno c'è la campanina che ha bisogno di svagare grazie per svagare bisogna di svagarsi un po' con tutto quello che fa per la città ecco non lo so c'era bisogno di cambiarlo ok ok hai risposto perfetto hai risposto hai risposto piste ciclabili magari si poteva si poteva piste ciclabili un'angoscia infinita ragazzi un'angoscia infinita ci sono delle piste ciclabili che finiscono nel nulla quella intorno alla Bocconi lo so perché quando vado al pane quotidiano a portare le cose io ho un'ansia noi non siamo abituati noi siamo un po' vintage comune di Milano noi siamo un po' vintage non siamo stati abituati alle piste ciclabili quando andavamo con la bicicletta mettevamo fuori il braccio così per girare a sinistra il braccio così per girare a destra sperando di non essere asfaltati un asfaltamento un'asfaltitudine costante sarò caduta in bicicletta non so quante volte non siamo abituati a vedere che arrivano sia da destra che da sinistra perché anche i ciclisti hanno la ripicca lo so lo facevo anch'io la ripicca del adesso mi rispetti perché io sono un ciclista e quindi tra loro i Deliveroo un'angoscia io ho sempre terrore di tirar sotto qualcuno non so Milano è fatta a spicchi è un macello fare le piste ciclabili mettiamo mano alle piste ciclabili facciamole sopraelevate in alcuni paesi facciamo qualche cosa perché è un'angoscia infinita o il terrore tira sotto qualche ciclista o qualche poverino che va a portare la spesa Milano e i giovani guerra o pace? ma pace assolutamente ma con la guerra non si arriva da nessuna parte no pace assolutamente allora Milano offre talmente tanto se tu guardi sui social perché è lì che alla fine offre talmente tanto che fai fatica a stargli appresso alle cose tantissimo tantissimo in una battuta il consigliere Monguzzi qualche tempo fa ai nostri microfoni ha detto che i convegni che ogni giorno vengono fatti a Milano e provincia sono praticamente il numero dei convegni che vengono fatti negli Stati Uniti e in Canada messi insieme in un anno diceva ecco e adesso poi arriveranno le Olimpiadi qui puoi immaginare cosa ci saranno infatti io avrei tanti questa è l'altra domanda le Olimpiadi? ah le Olimpiadi allora le Olimpiadi vabbè saranno una bella cosa perché le Olimpiadi sono le Olimpiadi ma io sto pensando già gli eventi che si faranno saranno infiniti figurati fuori salone il fashion week il salone tutti i fuori e poi i dentro degli eventi quindi sto pensando prodomomea ma avanzerà del cibo sicuramente avanzeranno cose sicuramente avanzeranno telefonini computer sistemi multimediali sicuramente ci siamo li veniamo a ritirare li ritiriamo per tutte le persone che sono senza tutto ritiriamo questo poi va bene le Olimpiadi sarà la magia io faccio un appello che ho già fatto per me stesso adesso lo faccio anche per Campanini noi vogliamo portare la fiaccola si può sappi non si può fare io voglio portare la fiaccola anche per cui due metri la voglio portare e dopo la passo a te noi dobbiamo portare la fiaccola olimpica questo è l'appello che dobbiamo fare Coni ci deve ascoltare e cedo il mio posto alla Campanini nel caso sia il suo lavoro bisogna farlo ma l'ha detto non è vero gli farò lo sgambetto fantastico no dobbiamo riuscire in questo intento Cristina questo è il nostro obiettivo entro il 2026 tutti i grandi eventi sarebbe bello che fossero seguiti da un grande evento sociale sociale in modo che diciamo la parte ludica la parte divertente la parte anche economicamente perché immagino sarà un'esplosione di attività per tutta Milano ecco vorrei che ci fosse addirittura che ci fosse una componente sociale altrettanto forte mi piacerebbe anche che per esempio Milano che ha grandissimi alberghi ecco magari che tutti i grandi alberghi adottassero una piccola associazione so che ci sono le strutture come il banco alimentare emergenza la carica insomma ci sono le infinite immensi colossi del benfare dell'assistenza le persone ma ci sono anche una miriade guarda te lo dico tantissime piccole associazioni che hanno un'azione granulare proprio day by day in tempo reale perché non hanno la burocrazia hai fame? vieni hai freddo? to ti scaldo tieni in tempo reale ecco se questi grandi alberghi potessero adottare una piccola associazione il cibo che avanza le coperte magari sai nel grande albergo non puoi avere l'asciugamano col filo tirato o la coperta che non è perfetta c'è tanta gente c'è chi le ritira c'è chi le ritira parliamo di almeno 25.000 persone in difficoltà più un numero sommerso che è al limite della soglia di povertà ma non ce la fa tanta gente non ce la fa ecco aiutiamo a far sì che ce la facciano chiarissimo grazie da Campanini grazie di essere statati con noi grazie a te miei carissimi anesi grazie anche a voi potete seguire tutto quello che è iutility dove? sul sito di iutility che è in progress abbiamo aspettato a fare un sito per risparmiare perché ci sembrava brutto spendere cioè capito siamo a questo livello però pubblichiamo tutto quello che facciamo su instagram e su facebook la voce iutility e poi se qualcuno volesse portare donare mandare cibo donarci i punti abbiamo una carta fidati portarci buoni in scuola adesso ormai è finito ma ci saranno tante altre occasioni la possibilità di fare qualche cosa per il prossimo c'è sempre uno se la può anche inventare guarda ho trovato questa cosa mi sembrava bene avanti tutta avanti tutta grazie mille grazie mille grazie anche a voi miei carissimi milanesi noi ci sentiamo alla prossima puntata grazie mille Grazie a tutti.